Dopo per il suo compleanno ti faccio la festa ma lo conosci? cambia compagnia cambia compagnia però devo dire che alcune le portano meglio gli altri perché tutti alla stessa età ovviamente ho una cura infallibile di bella si chiama il sistema a lei mi sono uscite le tette però mi sono rimasti i padroni non si poteva fare tutto ragazzi il budget era ristretto insomma è ma anche la signora con le tette non ci aveva fatto caso perchè questa me le bloccava che ce le aveva rosse ma le appende sembra di più anche quell'altra le stendeva bene bene sul tavolo quale? questa qua ho visto adesso c'erano due cosa hai fatto? dove l'hai messo questo dito? adesso che fatica non c'erano da fare tutto con la sinistra ragazza mia non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano